Ciao, sono Michele Paparella e sono qui oggi per illustrarti il funzionamento della nostra nuova Bagging Box. Dal 1891 la nostra famiglia produce un olio extravergine d'oliva italiano di alta qualità, seguendo i rettami della tradizione ma con una forte sensibilità alla sostenibilità ambientale e all'innovazione. È proprio da questa voglia di innovare e di preservare la bontà del nostro olio che nasce la nuova Bagging Box di Frantoli Paparella. Spingi sul disco e staccalo. Solleva la linguetta di cartone, estrai il rubinetto dalla scatola fino alla fuoriuscita del secondo anello. Blocca il rubinetto, stacca il sigillo di sicurezza, spilla l'olio spingendo le linguette verso l'alto. Nella Bagging Box l'olio viene conservato sotto vuoto, per questo i valori nutrizionali restano inalterati nel tempo e sarà come avere un olio fresco tutti i giorni.